Al pronto soccorso di Pesaro è diventata un'utopia immaginare un sereno Natale. Quello che si può sperare è un Natale senza criticità troppo gravi. Ma anche questa è una speranza ricolma di ostacoli, perché la chiusura della Guardia Medica di Pesaro da parte della Regione Marche nei giorni festivi e prefestivi per carenze d'organico rischia di mandare al collasso il sistema nei giorni compresi fra la Vigilia e Santo Stefano e i giorni di Capodanno. Dopo la Guardia Medica già interrotta a novembre a Gabice e Montecchio, scoprire il servizio anche a Pesaro per ben 48 ore rischia di mandare al collasso un pronto soccorso dove inevitabilmente si dirotteranno le patologie lievi in uno scenario di emergenza che già al collasso ci va molto vicino. Un pronto soccorso dove è diventato scenario quotidiano quello di lasciare in barella per giorni pazienti non contagiati dal Covid ma che faticano ad avere un posto letto in reparti riconvertiti al virus. Le carenze d'organico sono poi materia diffusa trasversalmente da una guardia medica che da 28 dottori si è ridotta a 8 a un ospedale Marche Nord che aspetta dei rinforzi che per ora restano solo sulla carta. Quelle di Regione Asur che hanno bandito concorsi di assunzione per 8 medici e 5 chirurghi da destinare anche al pronto soccorso quelle dell'azienda ospedaliera che ha bandito 8 assunzioni urgenti a termine per altrettanti medici. Fra i concorsi e la quotidianità c'è però un lavoro ospedaliero in cui il personale attuale rischia di essere letteralmente sommerso fra ricoveri Covid in progressivo aumento e l'inevitabile impossibilità strutturale a trattare in maniera adeguata altre patologie emergenziali no Covid. Uno scenario drammatico con 25 medici allo stremo contro i 40 che erano presenti un anno fa.